Altro video, altra corsa, stavolta con un pezzo grosso sardo, pezzo grosso in tutti i sensi, qui con noi, anzi no, voglio che si presenti da lui, da solo perché è un personaggio molto ma molto particolare, lui aveva già intervistato me, aveva fatto un'intervista a Edile qualche giorno fa, ora i ruoli si sono ribaltati, a te la parola. Ciao Carlo, ti ringrazio del tuo invito, io sono Giancarlo Spano, nella vita faccio il consulente di web marketing, aiuto gli imprenditori o i professionisti dell'edilizia a trovare più clienti sfruttando quello che è il web, quelli che sono gli strumenti digitali, quindi che possono essere i social network oppure i blog, quindi metto in connessione tutti questi vari sistemi in modo che arrivino più clienti alle imprese oppure gli permette di guadagnare di più con i clienti che già hanno. Perfetto, mi viene a mente allora, ora ti prendo un giro, magari metto un semaforo qui alle mie spalle quando è rosso e verde a seconda ti prendo un giro, una di quelle belle absence su Instagram dove ti vedremo a Dubai con la Ferrari, dai retta i miei consigli, ti farò diventare così in tre mesi. Allora, non sogno la Ferrari ma sogno un camper nuovo, io sono un camperista quindi sogno il camper. Tra l'altro da dove mi stai parlando? Ti parlo dal mio ufficio in Sardegna, quindi è una terra bellissima che puoi tranquillamente girare tutta col camper. Sì, assolutamente, sì sì, assolutamente, infatti tutti i fini di settimana parto con, ovviamente la wifi è presto, giro col computerino, ma al mare non posso evitarlo. Quindi andò se vuoi passare il camper con una specie di radar satellitare per internet? Sono io. Ok. Allora dai, scherzo a parte, è un professionista serio, vi consiglio di vedere soprattutto il suo gruppo che ha, l'hai già superato o ci sei vicino sui 20.000 iscritti? Sono, no, ci sono vicino, siamo a quasi 19.000, no, poco più di 19.000, quasi 20.000 iscritti. Eh ma sono discreti i numeri, cioè in una cosa di nicchia come l'edilizia e gli impianti, insomma. Sì, assolutamente, anzi guarda, io ho questo gruppo edilizia e impianti, su Facebook, all'interno ci sono più o meno tantissimi player all'interno del settore. Ho notato una tendenza, che avevo già notato come dipendente, perché poi ho lavorato nelle aziende degli impianti e delle costruzioni per tantissimi anni, ed è una tendenza delle mogli, degli addetti ai lavori, soprattutto degli operai, che vogliono aiutare i mariti a trovare di meglio, a migliorarsi, ad avere più possibilità. Io ho visto che ci sono tantissime mogli che si iscrivono al gruppo, perché vogliono capire segreti a quello che fanno gli altri negli altri settori, mentre i mariti sono in cantiere. E questa è una tendenza molto interessante, soprattutto per noi che facciamo marketing con il web. Questo è un interessante angolo, eh? Sì, è una cosa che avevo già mezzo notato, però pensavo fosse un'anomalia. Invece, no, ho visto che è una tendenza completa in tutta l'Italia, non c'è zona che non abbia questo tipo di particolarità. Allora possiamo tranquillizzare questi operatori se vedano che la propria moglie sta fissa su Instagram, su Facebook, perché lo fanno a fin di bene. Lo fanno per loro, esatto. Ok, ok. Lo fanno a fin di bene, allora. Niente sospetti, li possiamo tranquillizzare. Allora, è un momento molto particolare dell'edilizia. Ora torniamo seri. È un... non sono molto convinto di definirlo, di bollarlo come crisi, la crisi continua. Ma diciamo si era rotto un equilibrio che per certi aspetti era anche un po' sbagliato, era perverso. Cementificazione, costruzione, ben oltre la domanda effettiva, abitativa e di vario tipo. Ecco, ancora oggi il comparto edilizia viene disegnato dai giornali, dalle statistiche, diciamo in una situazione di stagnazione. Perché? Perché secondo me c'è una domanda che ancora non riesce a incrociare un'offerta. Ecco, tu Giancarlo, come riesci a inquadrare l'attuale stato del comparto edilizia e impianti? Perché te alla fine fai due filoni che comunque sono connessi tra le loro... Allora, sostanzialmente quello che vedo io è che, lo sappiamo tutti, dal 2008 a oggi il 50% degli operatori dell'edilizia è stato tagliato e fatto fuori completamente. Questo perché? Perché la crisi finanziaria ha tolto via tutti quei fondi che erano di investimento, perché prima si faceva tantissimo investimento edile. Quindi non era difficile trovare persone con cinque case, tre case, al minimo due. Quindi la richiesta era altissima. Cosa succedeva? Che le imprese ricevevano richiesti di preventivo e venivano affidati dei lavori senza il minimo sforzo. Tant'è che nell'edilizia si pensa che il cliente arrivi da solo. Questa è una tendenza che arriva da quei tempi lì. Il 2012 è stato l'anno peggiore. Era così, effettivamente era... Posso testimoniare che circolava facilmente tanti soldi. Sì, esatto. Quindi poi nel 2012 è stato l'anno peggiore e lì abbiamo iniziato a soffrire nel settore di quella che era la crisi, ma la vera crisi era soprattutto nel sentimento delle persone. Si aveva paura. Questa paura poi è stata trasmessa quindi ai giornali, che i giornali l'hanno trasmessa agli investitori. E io oggi posso dire di vedere persone, anche miei clienti, per quanto riguarda altri settori, che hanno i soldi, hanno le necessità di fare ristrutturazioni, sistemare le cose, ma non sanno a chi affidarli perché non si fidano. Nell'edilizia gli operatori edili, gli operai, purtroppo arrivano molto spesso, che sono ragazzi che non hanno voluto studiare, sono entrati in cantiere per la prima volta a girare la sabbia, e a un certo punto l'esperienza gli ha permesso di tirare su muri, e a quel punto si sono aperti la piccola azienda. Queste imprese, ovviamente, che non erano basate su un business plan stabile, solido, non potevano resistere a uno scossone così grande come la crisi del 2008 e del 2012. Inevitabilmente quelle imprese sono cadute. Per oggi nell'edilizia ci sono molti meno lavori di prima, però la domanda è andata ad affinarsi. Non è più una domanda strascico, che quindi serve gente che faccia lavori, basti che si presenti in cantiere, oggi servono operai qualificati, servono professionisti che siano specializzati in determinati settori, e non tutologi che ovviamente non sono specializzati in nulla. E quindi da questo punto di vista c'è una crisi, nel senso che questi operatori ancora non l'hanno capito, e c'è bisogno di portare queste aziende a incrociare questa domanda, questa nuova domanda. Come hai detto tu, c'è una domanda che non stai incontrando l'offerta. Sì, concordo un pieno. Ad esempio, ad esempio hai sottolineato una cosa molto importante, e io aggiungo anche un'altra cosa, che ha contribuito a rendere ancora più vulnerabili le aziende, le aziende, le aziende è un parolone, le micro imprese o le piccole imprese, molto spesso ora, per importi di una certa entità, di una modesta entità, in cantieri ti trovavi l'impresa, che a sua volta si tirava dietro la sua compagnia di ventura, di artigiani, quindi tutta la questione della sicurezza ai cantieri, piano e sicurezza, coordinamento, insomma, una situazione gestita molto all'italiana, che per certi aspetti non era virtuosa, e che esplodeva nel momento in cui esplodevano i contenziosi, per esempio il tribunale dovevi fare la chiamata in causa, ne portavi cinque, quattro artigiani e l'impresa che magari aveva tre operai, quindi c'era anche una difficile gestione in certe situazioni, ed è un problema che è andato avanti anche dopo, perché che cosa è successo? Non c'è stata una tendenza ad agglomerarsi di queste piccole imprese, al contrario c'è stata l'ulteriore polverizzazione, oppure guardiamo professionisti tecnici, posso testimoniare nel mio piccolo territorio toscano, empolese, c'era, ad esempio, c'era molti studi tecnici associati, in due o in tre, con la crisi questi si sono addirittura polverizzati in singole partite IVA, mi domando, è stata la strategia giusta, no? Bisognava andare in direzione opposta? Assolutamente sì, sì sì, sono d'accordo con te, lì quello che è successo è, che è anche l'errore che hanno fatto le piccole imprese, o le imprese un po' più strutturate, quei dipendenti, pensando di non morire, hanno creato nuove piccole, nuove micro imprese, quindi si sono trasformate in artigiani, hanno acquisito quei due o tre clienti che già aveva l'azienda, con quali magari avevano un rapporto di fiducia, quindi piano piano hanno iniziato a smontare quello che era il fatturato globale possibile nel settore delle diritti, a esserlo sono divisi, spartiti tra di loro, quando invece si poteva pensare di costruire delle offerte ben più mirate, agglomerando ancora ulteriori persone, però quello che vedo io in queste imprese, che nascono senza una base solida di quello che è il business, di quello che è la strategia di impresa proprio all'interno dell'azienda, è che invece di crescere si tende a pensare di pagare meno tasse, può avere un senso, perché in Italia le tasse sono al limite dell'umano, però effettivamente c'è la necessità che queste imprese nel momento in cui partano devono crescere per forza, non possono chiudere i bilanci a zero, sono piccole strategie che però non permettono all'imprenditore di fare l'imprenditore, l'imprenditore deve chiudere l'impresa con degli utili, prendersi gli utili e guadagnare di più, questo è lo scopo di un imprenditore di fare l'impresa, se invece andiamo a ragionare soltanto il fatto di fare lavoro, quindi di pagarsi l'oretta, a quel punto nella mente delle persone, conviene staccarsi e mangiare piano piano dai piccoli pasti che ci sono in giro per il territorio e guadagnarci con la paghetta che ti permette di andare avanti. Non so dirti qual è la ricetta giusta, nel senso ci vuole del tempo, l'edilizia, l'uomo ha costruito la sua casa da sempre, ci vuole del tempo per ricostruire tutto questo tessuto, di sicuro ci vogliono persone più esperte che conoscono bene il lavoro, ma a questo mi riferisco anche ai progettisti, perché poi dopo quando pensano di conoscere tutte le norme, l'avevi detto anche tu nell'intervista che ti ho fatto io, quando pensano di conoscere tutte le norme è impossibile che conoscano tutti quei libroni, cosa succede? Ogni volta devono andare a rileggersi tutto, vuol dire che non sono specializzati in nulla, quando mai erano un tecnico specializzato in una sola cosa, sta già come affrontare il tutto, gestisce le cose molto più velocemente e quindi anche a costi inferiori giustamente. Proprio così. Aggiungo ad esempio, mi ha fatto venire in mente una cosa molto significativa, che riguarda i principali attori, i principali player e gli strumenti innovativi che si stanno affacciando sempre più e con maggior frequenza. La polverizzazione, pensiamo agli idraulici, per esempio a quella categoria, mi veniva in mente che anche loro sono una categoria che sono polverizzati, sono magari piccole società, sono in coppia, anche lì sono, diciamo, forse in tre o magari una coppia di imprenditori che hanno un dipendente, avranno sempre un limite superiore oltre il quale non possano andare e quindi si dovranno focalizzare su certe cose e su altre invece non possano farle. Su quello che è l'innovazione, mi viene a mente ad esempio che sempre di più, prendiamo gli impianti termici, gli impianti termici stanno diventando, volenti o nolenti, anche domotici. Ora qui il buon Filippo Colosimo forse alle mie spalle mi tirerebbe una bacchettata, mi direbbe, occhio che la domotica e gli impiantisti a smart sono altre cose. Lo salutiamo Filippo, o si scherza? però ecco, scherza a parte, gli impianti effettivamente con tutta questa tecnologia, ora, non posso tirare l'iPhone che l'ho agganciato in ritaria, ma accendi il cellulare e subito ti trovi la pubblicità dell'impianto termico che lo controlli con l'app, quindi comunque la domotica ce la stanno sdoganando, sta diventando come il salvavita, sta diventando una cosa ordinaria, la devi avere o comunque un minimo di livello lo devi avere. Poi, anche qui, la complessità di questi tipi di impianti aumenterà sempre di più. Però ecco, da questo punto di vista, Carlo, non so cosa pensi tu dell'attuale panorama degli attori e dei player del settore edilizia da entrambi i versanti, imprese, professionisti? Sì, allora, il mondo dell'edilizia oggi ha un... ci sono degli attori all'interno dell'edilizia di ogni genere. Se parliamo, per esempio, di tecnologie, quindi di impianti termici, di domotica, eccetera, effettivamente c'è una richiesta che sta facendo il mondo che è quella di dotare le case di sistemi domotici. Ci sono le grandissime aziende come Amazon e come Google che stanno dotando piccoli sistemi economici per poter soddisfare questa richiesta a bassi budget, basti pensare al sistema di assistente vocale di Google che permette di accendere le luci e quindi già così avere una piccola integrazione tecnologica. Chiaramente questa non è la domotica che possiamo portare nelle case e invito tutti quanti se siete interessati a formarvi perché i sistemi non hanno niente a che vedere con queste tecnologie. però la richiesta è altissima quindi le imprese dovrebbero cominciare a capire questo tipo di richiesta e cominciare a formare all'interno della propria azienda i propri dipendenti affinché possano costruire questo tipo di impianti. Non è niente di eccezionale ci vuole formazione ci vuole studio costante di tutti i sistemi. Poi per quanto riguarda invece gli attori dell'edilizia a me piace fare un ragionamento su chi potrebbe muovere di più il sistema che sono gli ordini professionali i vari investitori immobiliari e le università parlo delle università perché sono quelle che possono trainare e portare qui le nuove tecnologie. Io collaboro con l'università di Cagliari si fa tantissima ricerca sui materiali che sono innovativi però volente o nolente le imprese non recepiscono questo tipo di messaggio perché vanno dal fornitore e dire un altro player del settore vanno dal fornitore e dire le comprano comunque quei mattoni che vengono commercializzati quel tipo di materiali che sono messi in commercio che vengono sponsorizzati all'interno di vari seminari tecuito commerciali. Questo cosa fa? Mette tutte le imprese nello stesso calderone gli mette i paraocchi loro vedono solo quel tipo di prodotto questo è successo con l'Itong un materiale molto famoso ormai nell'edilizia che ha sostituito più o meno il poroton non possiamo dire che siamo diversi da tutti gli altri perché usiamo l'Itong lo utilizzano tutti quanti quindi bisogna fare attenzione a questo tipo di modo di costruire possiamo guardare nell'edilizia le costruzioni dell'Oriente chiaro lì ci sono più soldi ma comunque sia è un trend che piano piano si avvicinerà a noi non possiamo pensare al vecchio muratore se pensiamo alle strutture che stanno facendo in Oriente quindi strutture che vanno a svilupparsi verso l'alto quindi che siano antisismiche insomma c'è bisogno davvero di una nuova di una nuova formazione poi ti ho detto all'inizio gli ordini professionali e le associazioni di categorie che sinceramente non stanno facendo una bella figura in questo periodo vuoi perché i professionisti e le imprese sono stanno navigando a vista e non hanno nessun punto di riferimento però sinceramente c'è bisogno che queste persone riprendano in mano quella che è un minimo di formazione ai nuovi strumenti noi abbiamo parlato in privato di quelli che sono i vari siti internet che fanno da aggregatori di lavori non sono altro che delle persone dei siti che stanno sfruttando il web e il digital che dovrebbero sfruttare i professionisti e le imprese per i fatti loro però loro lo sfruttano a grandissime linee che a grandi campi impiattano anche molti soldi acquisiscono i lavori e poi la fila in subappalto non possiamo dire che non c'è il lavoro se questi stanno facendo così e poi dopo noi andiamo come impresa a fare il lavoretto dando anche la percentuale a loro insomma ce la stiamo cercando un po' noi si tratta di investire un attimino in quello che è la nuova comunicazione del marketing sul web esatto hai toccato un punto che è diciamo è analogo a quello dei lavori pubblici che cioè il ribasso del capitolato o comunque di voci che vanno in qualche modo a erodere intaccare il vero valore dell'importo dei lavori tradotto per la signora Marcella importo lavori 100.000 euro se si comincia 100.000 euro magari fatto con dei preziari di riferimento ora mi viene a mente ad esempio i bollettini di ingegneri ma ce ne sono molti in circolazione ecco purtroppo ci sono dei meccanismi che magari abbiamo già affrontato prima nel backstage che tendono in qualche modo a intaccare in ribasso ovviamente questi importi dei lavori e che quindi inesorabilmente mi vanno a incidere sulla qualità sui tempi e su tutta un'altra serie di condizioni è quello che purtroppo accade o che può accadere nel settore dei lavori pubblici tant'è che credo che mi sia testimone ma è da un paio d'anni che questa normativa dei lavori pubblici altalena ogni mese ogni settimana con decreti correttivi e non riescano comunque in alcun modo a trovare una quadra fissa perché ci sono appunto degli elementi oscuri che non puoi risolvere e quindi hai perfettamente ragione gli scenari sai in questo caso ha detto bene occorrono persone e organizzazioni che si facciano carico di queste opportunità perché sono anche opportunità in questo senso le devono guidare ma in maniera virtuosa non in maniera viziosa quindi professionisti da una parte imprese dall'altra devono piuttosto iniziare a lavorare in sinergia piuttosto che magari che ne so deve arrivare un soggetto terzo che in qualche modo come si interpone fra di loro punto di domanda quindi effettivamente è uno scenario che si stanno aprendo diversi scenari di vario tipo quindi Giancarlo a te la linea non so cosa vuoi aggiungere in questo no allora è quello che ti dicevo quindi queste queste figure che stanno che possono vedere il mercato da sopra dall'alto devono mettere necessariamente le bandierine non può il singolo professionista combattere contro quelle che sono le varie correzioni delle normative affinché poi vengono messe venga sistemato il tutto anche perché poi dopo quando si va a lavorare e si progettano il mercato per gli anni a venire poter programmare il proprio lavoro ai 5 anni piuttosto che farlo a un anno è molto importante se io vado a pensare quello che da poco in Sardegna c'è stato il boom del mini eolico noi abbiamo il vento qui e quindi abbiamo cercato di sfruttarlo chiaramente nel momento in cui eolico che fa tanto incazzare sgarbi esatto per esempio comunque cosa succede nel momento in cui si sono resi conto che il mercato ha guardato un punto specifico per investire lì hanno messo una norma che bloccava tutto della serie tra vedere e non vedere io blocco dopodiché meno piano comincio a permettere un pochino e così organizzo a quel punto cosa succede che chi ha i soldi i grandi player si possono permettere di navigare a vista quindi si acquistano 5-6 paleoli che se le tengono in magazzino appena c'è un attimo di sblocco vado a montarne una non possono farlo le piccole imprese i piccoli investitori quindi c'è la necessità che si combatta affinché le normative siano chiare in tutto il settore siamo abituati alle normative restringenti ma ci devono dare il tempo di acquisirle di recepirle di comprendere come muoverci e poi strutturare i piani di business a lungo termine altrimenti ci soppochiamo da soli perché facciamo un investimento che si rivela sbagliato per colpa di una normativa che viene corretta fa anche girare le scatole è vero è vero bisogna cioè bisogna dare un po' di stabilità anche in questo senso è inutile cambiare le norme di continuo perché poi dopo una persona per investire deve capire cosa succederà da qui ai prossimi 5 anni minimo è verissimo ti faccio un parallelo di quello che è successo in Toscana in Toscana c'era erano gli anni d'oro dei mi pare tre primi conti energia ad esempio ad esempio mi viene a mente che la Toscana mi pare nel 2011 anno più anno meno ora posso ricordarmela tutte sparò una legge e disse benissimo ora interrompete immediatamente di fare i parchi fotovoltaici quindi quelli pannelli solari fotovoltaici a cielo aperto nei campi in buona parte del territorio quindi insomma avevano fatto una lunga classifica di zone dove non le potevi mettere a prescindere perché perché grandi gruppi grandi investitori avevano preso avevano eliminato ettari di pomodori e ci avevano messo il silicio e la Toscana visto da un punto di vista paesaggistico queste cose ci tiene da urbanista devo dire non era campata per aria e tutto sommato ha arginato una serie di orrori che effettivamente sono stati fatti c'è una zona in centro Toscana che arrivi con la superstrada con insomma con una infrastruttura grossa prima di entrare in questa città vedi una collina tutta nera di pannelli ma fa un certo effetto ecco purtroppo c'è chi fa degli errori macroscopici e che poi vengano fatti pagare anche in Toscana non so se dice anche in Zardegna ma paga il santo per il peccatore alla fine e allora devi fare la legge che colpisce tutti ed è ingiusto esatto ma a voi è successo per l'eolica a quanto pare sì sì allora anche noi abbiamo vissuto questo questo cambiamento di rotta per quanto riguarda i campi fotovoltaici era inevitabile però anche lì non possono permettere di organizzare investimenti ai piccoli imprenditori che nel momento in cui iniziano a costruire vengono tagliati perché abbiamo avuto esempi anche lì di parchi fotovoltaici dove c'era si stava già iniziando a lavorare e non si è potuto più fare insomma per i mille motivi comunque questa è la situazione dell'edilizia chiaramente ci sono tutti questi attori c'è la necessità che gli ordini le associazioni di categorie inizino a remare con una direzione ben precisa i professionisti e le imprese invece devono cominciare a comprendere quello che è la potenzialità del web cominciare a studiare a focalizzarsi perché altrimenti sono davvero lasciati al volere delle onde al volere degli altri quindi ci sono le università che ci possono aiutare a cercare di capire come sta andando il mondo gli altri mercati mercati esteri con internet abbiamo la possibilità di vedere cosa stanno facendo le imprese vicine di casa nelle altre nazioni insomma le possibilità sono tante io quando parlo di edilizia capisco che c'è una crisi capisco che il morale è basso però io quello che vedo invece lavorando con tante imprese contemporaneamente è che in realtà gli spazietti per muoverci e la speranza c'è assolutamente ci sono delle belle possibilità oggi per crescere sono pienamente d'accordo tant'è che a questo punto ti faccio la domanda finale quali sono a questo punto le iniziative gli strumenti che tu col tuo gruppo con la tua rete quindi col tuo staff proponete o che diciamo intendi condividere con gli spettatori di questo video sul mio canale youtube allora io faccio io ho una pagina su facebook che è Giancarlo Spanu oppure la trovate come web marketing in Sardegna in questa pagina condivido dei video che potete trovare anche sul mio canale youtube cercando Giancarlo Spanu condivido dei video dove faccio interviste ad altri imprenditori che stanno usando il web dove raccontano come hanno trovato più clienti grazie al web lo faccio per condividere con chi ancora non lo sta utilizzando per fargli comprendere che ci sono delle possibilità poi ogni tanto a fronte dei casi studio oppure parlo nei video di come evitare determinati errori perché mi rendo conto che in Italia la formazione è sempre stata fatta o per avere i crediti formativi obbligatori senza pensare veramente allo scopo dello studio oppure per fare vendita e quindi le aziende si organizzano con rete vendita che sparano in giro per il paese a bussare a tutte le porte non si fa un ragionamento di marketing che quindi quello che si può fare condividendo il proprio valore quello che la nostra azienda può fare per il nostro potenziale cliente e quindi faccio vedere vari casi un video per esempio degli errori dei preventivi nell'edilizia un altro video ho affrontato il caso studio di edilizia acrobatica che è un'impresa che nel mondo dell'edilizia oggi da quando è nata sta aprendo sede in tutte le città d'Italia perché in edilizia avevamo un problema c'erano i ponteggi fare un ponteggio costa fare un ponteggio richiede documentazione della sicurezza chiaramente perché è una cosa molto pericolosa occupazione suolo pubblico che è costoso occupazione suolo pubblica che è costoso cosa succede nel momento in cui tu devi fare una piccola lavorazione non puoi permetterti di fare tutto questo lavoro è più che rinunciarci quindi quello che dicevamo prima c'è già la domanda che vuole spendere quei soldi per fare la ristrutturazione nella facciata ma non lo può fare perché non si può permettere 15.000 euro di ponteggio per fare 2.000 euro di lavoro l'edilizia acrobatica ha formato questi ragazzi che si lanciano si calano dalla copertura dei picci in corda in doppia corda di sicurezza che è la tecnica che utilizzano gli alpini e fanno le lavorazioni in quota oltre agli alpini se posso fare un esempio spiritoso se me lo concedi nel film è quello con Blues Brother ha visto nel finale quando sono chiusi nel grattacielo a pagare le tasse all'ufficio del fisco e che c'è i poliziotti si calano con la fune dall'alto e scendano veramente dalla copertura ecco mi sembra che c'è un parallelo in questo loro lavorano più o meno con tecniche ovviamente in altissima sicurezza però lavorano diciamo con corde in trazione in modo tale da poter accedere soprattutto sulle coperture e sulle facciate e come i poliziotti di questa scena camminano in maniera verticale sulla facciata proprio lavorano come uno cammina sul pavimento ecco più o meno questo vogliamo dare anche dei commenti se vuoi allora guarda quindi mi trovate su facebook sulla pagina Giancarlo Spanu oppure web marketing Sardegna e poi il gruppo invece si chiama edilizia impianti lo trovate perché sostanzialmente è la community dell'edilizia e gli impianti più grandi su facebook poi potete andare su se volete contattarmi nella mia pagina c'è la possibilità di inviarmi un messaggio io rispondo molto velocemente direi che bastano questi riferimenti molto bene ovviamente vari social linkedin esatto questi vari social sono presenti ovunque quindi su linkedin e su youtube sostanzialmente cercatemi in questi tre posti poi c'ho il mio sito spano giancarlo punto com spano giancarlo punto it scusa quindi lì mi trovate altre ulteriori informazioni un sito che sta crescendo piano piano ma si sta evolvendo con quella che è poi la richiesta perché poi tutto il settore va educato quindi piano piano sto cercando di diffondere i contenuti con tutti quelli che vogliono seguirmi ottimo 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 perché hai dato hai condiviso una discreta serie di analisi ecco hai fatto in maniera lucida una attenta analisi dei problemi che diciamo sono esplosi nel 2008 perché diciamo c'era già una come dire una struttura un'abitudine di lunga durata degli operatori ma che dal 2008 praticamente ha sancito che questo modello era vulnerabile e che non poteva più avere prospettive sono passati dieci anni cosa è cambiato e te l'hai riassunto in maniera veramente eccezionale ciao Carlo io non so come ringraziarti ti ringrazio veramente per tutte queste informazioni che hai condiviso con tutti gli spettatori ci diamo appuntamento allora alla prossima intervista a chi la farà a chi non si sa va bene ti ringrazio Carlo ci vediamo al prossimo appuntamento un saluto da Carlo Pagliai e da Giancarlo ciao a tutti ciao a tutti